Un giro di false fatture per milioni di euro è quanto viene contestato dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore di nazionalità cinese che opera da tempo a Castelvetrano. La denuncia per lui è scattata al culmine di una verifica fiscale svolta dalla tenenza della finanza che ha portato proprio all'accusa di aver sottratto all'erario imposte per oltre 1 milione e 400 mila euro. L'imprenditore si sarebbe avvalso di un collaudato sistema di frode fiscale connesso all'utilizzazione di numerose fatture per operazioni inesistenti emesse da 31 imprese fantasma a 26 di dichiarate nei principali poli commerciali italiani tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia e Prato. Oltre 1.100 infatti sono i documenti falsi prodotti dalle società cartiere e individuati dai finanzieri nella contabilità della ditta individuale la quale registrando costi fittizi ha potuto abbattere i grossi utili conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale. Per l'anno d'imposta 2015 inoltre l'imprenditore avrebbe omesso completamente la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie occultando all'erario redditi per oltre 1 milione e 700 mila euro. In nero anche la mano d'opera. All'interno dell'area commerciale di oltre 2.100 metri quadrati infatti i finanzieri all'atto dell'inizio della verifica fiscale avevano individuato quattro commessi privi di qualsivoglia contratto di lavoro mentre altri sette ne erano stati scoperti in precedenti controlli ispettivi. In tutto sono 32 le persone denunciate.